Bella ragazzi, qui sono il Gunner in questo pomeriggio di autunno insieme a House of Lord qui su ProPunt per la prima volta, dove cazzo mi nascondo? Ok Buona gana amici amiche, benvenuti a questa nuova puntata qui con in mano il bastone ferrato alla ricerca del Gunner Games che sicuramente si sarà nascosto da qualche parte ma andiamo a beccarlo adesso il Gunner e questo è ProPunt, Garry's Mode Hide and Seek non colpirle così forte le cose però no sono un micchione, vai no, no, ero lì vicino no eh cazzo, non tocca a me non zetto, adesso tocca a me nascondermi quindi ma chissà dove sarà mai ma chissà dove sarà mai però io sento aprire porte scusa, cosa ci fa un'anguria qua in mezzo, ah non sei te ahahah risparmi e colpi volete la bibita? guarda che costano eh la modalità giusta, inserire il centone nooo ooh oooooo cazzo di com' ho fatto apriti apriti vieni qua cazzo di pazzo si 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 salta il dosso no no cazzo di lavastoviglie no no bella lord vieni vieni promesso questo prima non c'era via via giù 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 come hai fatto a scendere? ma c'è anche un di sotto dove cazzo sei? no dove sei? adesso? oh figa c'era anche un di sotto nord 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 una cosa da farti vedere non te ne sei neanche accorto? no ma no oh ma no no cazzo e penso che sono stato qua in mezzo proprio sono stato qua in mezzo aspettando che il ganner si imboschi da qualche parte effettivamente bisogna un attimo però ma probabilmente nelle mappe grandi bisognerebbe anche essere in più gente ma cos'è 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 qualcosa la vieni qua vieni qua vai via ma dove cazzo no ma si ma si ho perso lo stesso ma vabbè non mi beccherà mai mai non mi beccherà mai vieni qua vieni qua vieni qua bella questa ah 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 cazzo ma cazzo ma beccato la fine del ganner ma beccato sapevo che no più che altro perchè non mi ho detto se faccio questo non esco più dalla lavanderia perchè era troppo grosso per per scappare che tra l'altro ho scoperto che quando tu diventi l'oggetto ti moltiplichi si ho scoperto anche io adesso quindi vuol dire che se fai una roba grossa t bestimmali cazzo no perché su della merda ma l'ord si capisce no cazzo non mi farò prenderle una parola di merda no cazzo aiuto si è fermato vai via voglio un caffè voglio un caffè cazzo anche te lord c'è la mia di merda colpire cose cose a caso cose a caso ora che ti trovo qua passano due giorni lavorativi almeno con tutti i rumori che fa ciao nooooahahahahha no no e vabbè le solite porte aperte per depustare e guarda guarda che merda le aperte tutte. Qua mi sembra tutto in ordine. Vediamo il gunner cosa diventerà adesso. Gunner? Ci sei? Si. Perché sta venendo a prenderti. Carca traia. E adesso è dura la cosa. Veramente dura adesso. Che cosa sto succedendo qui dentro? Cosa cazzo succede? Non lo so. Non so dove sei ma... La vangeria è tutto regolare. NOOOOOOO! Noooo! Noooo! Il tavolo di merda! vai via dove sei gran vai dove eri una sedia di merda eri no ma era una sedia poi c'è entrato un tavolo e si esplosi tutte le altre sedie levati no 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 tanto non riuscivo più a muovermi con quel cacchio di robo vediamo un po' se mi ho beccato brutto stronzo vai via vai via dai diventa qualcos'altro aiuto tramutati fai qualcosa perchè mi chiudi le porte brutto stronzo che cazzo sei adesso? niente l'ho morto a cazzo anche sui vai fa culo bene per questa puntata è tutto grazie al gunner per aver partecipato a questo hide and seek veramente spettacolare noi ci rivediamo la prossima volta sempre su house of lore e state come sempre sintonizzati a one again bella ciao al prossimo episodio ciao 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 ciao